we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daieee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia quante novità nel video di oggi che oltre a farvi vedere delle immagini esclusive vi mostrerà anche tre spezzoni di video davvero assurdi insomma ragazzi i giorni stanno volando si sta per arrivare alla season numero 9 e oramai siamo anche in prossimità dell'evento di loot lake qualcosa vi ho già spoilerato in un video sul canale e su instagram ma anche oggi ne parleremo abbondantemente ovviamente le ru news non mancheranno nelle informazioni che voglio darvi per tenervi super super aggiornati con quello che sta per accadere ma vedremo anche lo stage finale del vulcano in game ragazzi è davvero assurdo quello che succederà la fase finale dell'eruzione del vulcano e come vi anticipavo un bel po di leaks per darvi qualche info sul dietro le quinte di fortnite voglio prima però ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ragazzi è la domandina raga oramai chi segue i video lo sa devo farvi la domandina e voglio leggere i vostri commenti qui sotto mi raccomando che ci tengo davvero tanto dai non avete capito che domanda vi faccio dai ve la faccio ve la faccio la domandina ragazzi è molto semplice quale oggetto rivolresti in game e dai raga vi ho fatto vedere com'è l'evento finale è del gioco avremo la possibilità di scegliere uno tra i sei oggetti che vado ad elencarvi la thompson il rampino l'infinity blade le bouncer la mitraglietta tattica o gli aeroplani quale rivolreste voi in game io ragazzi rivolrei la la mitraglietta tattica se devo essere sincero mi manca tanto bellissima la silenziata ma la mitraglietta tattica era veramente oppi ditemi quello che volete voi qua sotto nei commenti mi raccomando ma quindi ciancio le bande e bando le ciance si va si va si va ed eccola qua ragazzi la piattaforma apparsa per la runa numero 4 nel pomeriggio di ieri ragazzi chi non l'ha vista voglio fargli vedere voglio condividere il video del momento in cui la runa si è attivata come vedete ragazzi siamo nelle montagne verdi là in fondo c'è pinnacoli e che cosa è successo è apparsa la runa che state vedendo là in alto eccola qua molto meglio inquadrato con una specie di piattaforma suddivisa in nove quadrati con colori diversi la community quindi tutti i giocatori di fortnite dovevano picconare letteralmente il colore dovevano mantenere i colori maggiori in modo da picconare i colori che mancavano e quindi formare una base uniforme come stiamo vedendo bisognava anche essere molto veloci perché una volta picconato un colore e trasformato in quello voluto altri si ritrasformavano io non ho capito perché alcuni membri alcuni giocatori picconavano colori diversi una volta che il colore scelto ha dominato tutta la piattaforma guardate un pochettino l'attivazione della quart del quarto portale sta per terminare la fase di picconamento chiamiamola così ragazzi è davvero molto molto bello l'effetto che è stato dato e ovviamente la curiosità sulla runa numero 5 l'ultima runa cresce davvero di giorno in giorno non dovrebbe oramai mancare molto anche perché fra poco come vi anticipavo arriverà essendo la fine della season il nostro evento vulcano ecco qua ultime picconate ragazzi per trasformare il colore verde in blu e quindi per attivare definitivamente la runa dovremmo esserci veramente manca pochissimo eccolo qua ragazzi eccolo qua adesso arriva l'effetto grafico si trasforma ed è completamente blu diventa nero cadono quelle sfere per ogni quadrato la runa si alza in cielo e con un bagliore assurdo viene teletrasportata immediatamente a sponde del saccheggio andando quindi ad inserirsi nella sua location e quindi attivando il portale numero 4 ragazzi in questa immagine in questa foto in questo video si vede anche la penultima fase del vulcano eccola qua che ci porta tra l'altro al prossimo argomento quello che vi anticipavo già all'inizio del ghettel del video ed è il vulcano in fase finale vi ho lasciato ragazzi pochi secondi fa con l'immagine del vulcano ma state pronti qua i like raga è qua i like al video perché questo è un pezzo veramente 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 forte ragazzi sbom ragazzi sbom eccolo qua in game spoilerizzato a schifo scoperto da qualcuno la fase finale che è veramente qualcosa di assurdo la lava addirittura fuoriesce in una colonna di fuoco verso l'alto creando un vortice di nuvole nere proprio sopra al vulcano vi ricordo ragazzi vulcano dominato dal prigioniero del fuoco stagione numero 7 re del ghiaccio domina picco polare stagione numero 8 re del fuoco domina il vulcano stagione numero 9 non si sa ancora ma è davvero incredibile quello che abbiamo appena visto ragazzi il vulcano che rotta verso l'alto e parlando tra l'altro di picco polare che è stato dominato dalla re dei ghiacci vi ricordate che vi avevo anticipato il le crepe che si formano che si sono formate all'altezza dell'ingresso dietro picco polare beh ragazzi guardate allora anche questo video che ci mostra direttamente con il drone sotto alla superficie come siano molto più evidenti le crepe che quindi preannunciano la distruzione dell'ultimo enorme blocco di ghiaccio che ancora nasconde il castello e che quindi potrebbe finalmente nella season numero 9 rivelarlo totalmente qualcuno aveva azzardato la teoria del come si dice blocco di ghiaccio che giustamente si scioglie nella season numero 9 e quindi viene totalmente scoperto il castello staremo a vedere ovviamente se verrà confermata prima di salutarvi però vi mostro l'ultima curiosità davvero mega interessante siamo nelle sponde del saccheggio perché non li avesse visti in una delle piccole costruzioni ci sono dei monitor che non sono distruttibili gli unici monitor che non si possono rompere beh ragazzi come vedete uno di questi ha un particolare ve lo faccio vedere un po più zoomato si nota il bouncer ragazzi non si sa se sia relativo questo bouncer all'evento io credo proprio di sì ma è davvero curioso sapere che il primo dei sei monitor guarda caso tutti e sei monitor potrebbero essere collegati ai sei oggetti di cui vi ho parlato saranno sicuramente riempiti con delle immagini degli oggetti che potremo scegliere da portare in game beh ragazzi io per oggi vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su se vi è piaciuto iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 13 in live ciao